Ma che contesto, ma che similità, ma che bel letto, che leggeretto, e che calore, e che teatro, e che manifesti, e che tutto, ciao, ciao, ciao. Guarda, faccio molta fatica a concentrarmi, però lo so, Reggio Emilia, il teatro più bello del mondo. Non lo dico io, lo dicono chissà, ok? Quando l'ho visto, un'emozione. State per andare in scena? Praticamente, ecco perché la logorroicità dipende da questo. Vito, sciolgo la lingua con lei, vai, con un teco. Va bene, facci un bello sciogli lingua, quello proprio più... La 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 la. Non è un sciogli lingua. Sì, lo so. Come sta andando notturni? Benissimo. E con i tuoi compagni di sera? Benissimo. Si vedeva che mentivo? No, va bene. Sono domati. Sono domati? Addirittura. Sì. Ma sono proprio là dietro. Sono proprio dietro di te. Oh, mio Dio, ho sentito che ha detto sono domati. Si intravedono le figure oscure. Semplice. Vedi come siamo eleganti però, guarda. Quando scordano le punte, ti mangiate? Poi non ho il tacco. Guarda, salutate, salutate. Guardate questi graditi qua, bisogna sempre salirli così, prendere un po' di slancio e poi si può salire. E scendere uguale. Se qui devi allungare il passo, mi fai. Ho preso queste maglie, prego. Vieni, prego. Vedete come si fa? Sì, va bene. Ho fatto il contrario, però va bene. È per scendere, è per scendere. Per salire si fa così. Adesso andiamo in scena. Sempre una merda. Sei contento? Ti sembro scontento, Johnny? Minchia, Caravaggio. Caravaggio, Jack. Sì, sì.